Carlo Acutis è una figura che negli ultimi anni ha saputo suscitare un interesse crescente grazie alla sua straordinaria storia di fede, di amore per Dio e di passione per la tecnologia, un tratto unico che ha reso il suo esempio particolarmente potente e rilevante per le nuove generazioni. Fin da piccolo, Carlo mostrò una devozione fuori dal comune, che colpì e ispirò chiunque lo conoscesse. Nato il 3 maggio 1991 da una famiglia benestante a Londra, ma cresciuto in Italia, Carlo sembrava un ragazzo ordinario, con interessi simili a quelli dei suoi coetanei e una curiosità inesauribile. Tuttavia, a differenza di tanti altri ragazzi della sua età, mostrò presto una profonda spiritualità che si manifestava non solo nella sua pratica religiosa, ma anche nella sua capacità di integrare la fede con l'uso della tecnologia. Questa fusione di modernità e fede, unita a un amore sconfinato per Dio e per il prossimo, ha fatto sì che Carlo diventasse un modello di vita cristiana anche in un mondo sempre più tecnologico e digitalizzato. La sua figura è diventata un punto di riferimento che attira migliaia di giovani e adulti, spingendo tanti a riflettere su come sia possibile vivere una fede autentica e profonda anche nell'era digitale. Carlo Acutis aveva compreso sin da giovane l'importanza di usare i suoi talenti per una causa più grande. Nonostante la sua passione per la tecnologia, coltivata con entusiasmo e dedizione, era ben consapevole dei rischi che il mondo digitale potesse rappresentare. Era, infatti, convinto che la tecnologia non dovesse essere vista come un ostacolo alla spiritualità, bensì come un mezzo per promuoverla. Carlo aveva una visione pionieristica di Internet, vedendolo come uno strumento capace di avvicinare le persone a Dio, in particolare i giovani, spesso distanti dai tradizionali percorsi religioso. Creò, quindi, un sito web per raccogliere e documentare i miracoli eucaristici, un progetto ambizioso che si proponeva di far conoscere la bellezza della fede cristiana utilizzando un linguaggio comprensibile alle nuove generazioni. Il sito sui miracoli eucaristici, ancora oggi accessibile, è stato un vero e proprio progetto di evangelizzazione moderna, attraverso cui Carlo desiderava comunicare con i giovani nella loro lingua e nei loro spazi, facendoli sentire parte di una comunità globale. La sua intuizione si è rivelata straordinariamente efficace, molte persone hanno riscoperto il significato della fede cristiana attraverso il sito, e numerosi giovani si sono avvicinati alla religione ispirati da questo giovane così moderno, eppure così profondamente devoto. Nonostante il suo impegno e la sua voglia di vivere, Carlo si trovò ad affrontare una prova che per molti sarebbe stata insostenibile. A soli 15 anni, gli venne diagnosticata una forma aggressiva di leucemia, una malattia che si rivelò fatale in breve tempo. Di fronte a questa diagnosi, Carlo dimostrò una serenità e una fede incrollabili, sorprendendo tutti coloro che lo circondavano. La sua reazione fu di totale abbandono alla volontà di Dio, senza mai lamentarsi né mostrarsi angosciato. Anzi, proprio durante il periodo della malattia, Carlo seppe trovare parole di conforto per le persone intorno a lui, facendo loro comprendere che accettare la sofferenza come parte del disegno divino poteva essere una via di salvezza e di pace interiore. Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, al Papa e alla Chiesa, dichiarò, riassumendo in una sola frase il suo atteggiamento verso la sofferenza. Per Carlo, il dolore non era un semplice male da evitare o da temere, bensì un'opportunità per avvicinarsi ulteriormente a Dio e contribuire con il suo dolore al bene della Chiesa e del mondo. Questo aspetto della sua vita ha colpito profondamente le persone che lo hanno conosciuto o che hanno appreso la sua storia, e ha portato molti a riflettere sul valore della sofferenza come mezzo di crescita spirituale e di avvicinamento al Divino. Dopo la sua morte, avvenuta il 12 ottobre 2006, Carlo Acutis non fu dimenticato, e la sua figura cominciò a risuonare in tutto il mondo. Il suo esempio di fede e coraggio ha toccato il cuore di migliaia di persone, e ben presto iniziarono a circolare storie di miracoli attribuiti alla sua intercessione. La Chiesa Cattolica, dopo aver esaminato le testimonianze, ha riconosciuto ufficialmente uno di questi miracoli, avvenuto a favore di una giovane ragazza della Costa Rica. Questa ragazza, trasferitasi in Italia per motivi di studio, ebbe un incidente che le provocò un grave trauma cranico. La situazione era critica e i medici avvertirono la sua famiglia che, anche in caso di sopravvivenza, la giovane avrebbe potuto riportare danni permanenti. La madre della ragazza, una donna di fede incrollabile, si recò ad Assisi alla tomba di Carlo per chiedere la sua intercessione, pregando intensamente per la guarigione della figlia. Poco dopo, la giovane iniziò a migliorare rapidamente, sorprendendo i medici che avevano previsto conseguenze gravi e permanenti. Oggi la ragazza ha ripreso la sua vita e prosegue nei suoi studi, diventando una testimonianza vivente del potere della fede e dell'intercessione di Carlo. Questo miracolo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, ha contribuito a rafforzare la fama di Carlo Acutis come intercessore celeste, e ha portato molte persone a rivolgersi a lui per chiedere grazie e guarigioni. Tuttavia, il miracolo della ragazza costaricana non è un caso isolato, dal 2020, anno in cui Carlo è stato beatificato, sono emerse numerose altre testimonianze di guarigioni inspiegabili e di grazie ottenute per sua intercessione. La sua tomba, situata ad Assisi, è diventata una meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo, attratti non solo dalla curiosità ma anche dal desiderio di ottenere una grazia o di trovare conforto spirituale. Uno degli episodi più affascinanti legati alla memoria di Carlo riguarda un petalo di rosa raccolto dalla madre nei pressi della sua tomba. Normalmente, un petalo di rosa si secca e perde il suo colore nel giro di pochi giorni, ma questo petalo, raccolto anni fa, sembra sfidare le leggi della natura, anche dopo diversi anni, ha mantenuto il suo colore vibrante e continua ad assorbire acqua, come se fosse ancora attaccato alla pianta. Scienziati e botanici che hanno esaminato il petalo sono rimasti perplessi, incapaci di offrire una spiegazione scientifica plausibile a questo fenomeno. Il petalo di rosa è così diventato un simbolo potente della presenza spirituale di Carlo e del potere della fede, un segno che ha colpito l'immaginazione e la fede di molti. Questo fenomeno è visto come un esempio tangibile di come la santità di Carlo possa manifestarsi anche attraverso segni visibili, e ha contribuito a consolidare la sua fama di intercessore celeste e di modello di fede. Carlo Acutis non è solo un intercessore per i fedeli, ma anche un modello di vita cristiana nel mondo moderno. La sua vita dimostra che è possibile vivere una fede autentica anche in un'epoca dominata dalla tecnologia e dai cambiamenti sociali. La sua capacità di integrare la passione per la tecnologia con la sua fede è particolarmente significativa per i giovani di oggi, che spesso vedono la tecnologia come un ostacolo alla spiritualità piuttosto che come una risorsa per esprimerla e diffonderla. Carlo era convinto che la tecnologia potesse essere uno strumento straordinario per portare la parola di Dio nel mondo, e il suo sito web sui miracoli eucaristici ne è un esempio tangibile. Questo progetto non era solo un mezzo per evangelizzare, ma rappresentava anche per Carlo una prova della grandezza di Dio. Egli amava studiare e imparare cose nuove, e considerava la scienza come un modo per avvicinarsi alla comprensione del creatore. Per Carlo, fede e scienza non erano in contraddizione, ma due facce della stessa medaglia, entrambe capaci di rivelare la bellezza e la complessità del mondo creato da Dio. Questa visione è particolarmente rilevante oggi in un'epoca in cui spesso si tende a separare la fede dalla scienza, considerandole come ambiti incompatibili.Iere grandi gesti o opere straordinarie, ma attraverso la pratica costante e quotidiana della bontà, della compassione e del servizio agli altri.